un po' di chi si occupa di computer forensi che è che le cose che si possono fare sono tantissime. Dal punto di vista informatico c'è sempre, insomma, sapete le best practice, quindi non è che c'è un codice, chiamiamolo così, di condotta su come possono essere fatte le cose. Le cose possono essere fatte bene, possono essere fatte male, sia a livello informatico che poi a livello processuale, nel senso che il nostro processo ha delle regole molto ferre, giustamente, che devono essere rispettate. Questo non è sempre vero, io vedo fare un po' di tutto, quindi oggi abbiamo deciso di fare questo talk che appunto si chiama Lui, Lei e l'altro o gli altri, che appunto non è una categoria di Pornhub, non abbiamo cercato di fare, perché subito l'abbiamo presentato così, non è niente di anche il mio nome, abbiamo girato le policy delle HC io due volte, sia col nome che col nome del talk, non fare riferimenti sessuali, abbiamo uno talk che si chiama Luele e l'altro io sono alfa milfa, comunque in realtà non vogliamo parlare di niente di tutto questo, vi vogliamo raccontare da vicino le cose da quelle basilari a quelle un pochino più complesse in cui ci siamo trovati ad affrontare. Qual è il problema? Che la computer forensic è qualcosa di molto delicato e molto tecnico, nel senso che, come vi dicevo prima, ci sono tutta una serie di accertamenti che si possono fare a livello informatico, ovviamente l'obiettivo che cos'è? arrivare, qualsiasi cosa in questo momento, qualsiasi indagine nel 2018 prevede una componente informatica, sempre, ok? I problemi e gli ostacoli sono tanti, in realtà l'obiettivo quasi sempre, almeno ve lo dico io da avvocato penalista, faccio l'avvocato praticamente presso che solo diritto penale, la prima cosa da fare quando arrivano gli operanti, la cosa migliore da fare, poi vi faccio vedere anche come viene fatta, è prendere il telefonino dell'indagato. Ovviamente per accedere al telefonino dell'indagato non è così semplice, però i PIN e le password di accesso c'è un modo facile per aggirarlo. Chiava inglese. Esatto, chiava inglese. O sbaccarlo. Quindi il problema qual è? Che ci sono delle regole, sia dal punto di vista informatico, quindi degli ostacoli, sia dal punto di vista procedurale. La computer forensic è tutto quel procedimento che fa sì che si arriva a individuare quella che può essere una prova, un indizio o qualsiasi altra cosa che sia su un dispositivo o comunque che sia diciamo una digital evidence. Trovarla, preservarla, conservarla, dare quella che nella prova informatica e nella prova americana è la sacrosanta chain of custody, che è un concetto che arriva da lì, in America sono assolutamente, sapete, si vede sempre nei telefilm, è vero che in CSI si può fare e lo fanno sempre, però in realtà preservare accuratamente la prova informatica. In Italia uno dei primi casi, se ve lo ricordate, è il caso Stasi in cui i carabinieri, vi ricordate no? Esatto, esatto, è una delle prime sentenze che ha fatto il GIP dicendo guardate, al contrario, come non si fa la computer forensic, in quel caso voi vi ricordate, il ragazzo aveva consegnato il computer agli operanti e poi dalla super consulenza tecnica che era stata fatta era evidenziato che in realtà erano stati modificati 37.000 file, perché? Perché il computer era stato acceso, spento, il file era stato consultato, perché lui diceva guardate che io non è vero, ho lavorato la tesi, quindi computer acceso, visto, file spostati nel cestino, cestino svuotato, computer riacceso, quindi in realtà praticamente l'evidenza al contrario poi lì si è dovuto arrivare i metadati, quindi come non si fa la computer forensic? Quante persone ci sono in un procedimento di computer forensic? Perché generalmente in un procedimento penale c'è ovviamente il difensore, c'è un pubblico ministero che fa le indagini e poi un ruolo fondamentale è quello del consulente tecnico, in maiuscolo, avvocato, in minuscolo, è vero, spesso e volentieri è vero. I danni più grossi che ho visto fare a livello processuale sono, no, della cattiva sinergia tra avvocato e consulente tecnico, sì, esattamente, perché? Perché, e ve lo dico io ad avvocato, lui poi vi racconta come siamo noi, siamo fatti così, io vi racconto come siete, come sono fatti loro. Allora, il consulente tecnico spesso e volentieri, allora considerate che noi avvocati l'informatica generalmente non è un argomento che digeriamo in maniera facile, io sì, perché ci sono cresciuta, esatto, però è una materia molto complessa. Non ci sono, anche in tribunale di Milano che dovrebbe essere avvantissima, hanno fatto una sezione dedicata all'undicesima per i reati informatici, alla fine poi sta naufragando tutto, perché è difficile anche trovare, a parte alcuni procuratori, sapete che adesso ci sono le procure distrettuali, quindi in realtà alcuni tribunali hanno dei pool effettivi di competenza per risolvere, diciamo, per avere le indagini informatiche, però per determinati reati, cioè reati informatici puri. E come vi dicevo prima, ormai qualsiasi tipo di reato prevede la prova informatica, se ha un'acquisizione di una cella, le immagini di videosorveglianza, dati, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa è un dato informatico, quindi qualsiasi cosa va preservato correttamente. E spesso gli errori che vengono fatti sono proprio in tal senso, perché? Perché le procure non hanno anche giudiziaria dedicata, che sia tecnica esperta, perché, e questo credo di non essere smentita, anche consulenti tecnici che hanno lavorato per le procure sono mal pagati, quindi in realtà tendono anche migliori consulenti tecnici a fuoriuscire dalle procure. E questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione e che ho visto anch'io e purtroppo è così. Quindi in realtà ci possono essere errori. L'errore che vi dicevo prima è anche il problema che l'avvocato può trovare difficoltà a capire determinate cose. Ed è una lotta a combattere con un consulente tecnico che spesso non è chiaro nell'esposizione. O addirittura non è chiaro, è fumoso, perché in realtà poi c'è anche il problema del consulente tecnico di parte, che si dimentica sempre, perché non c'è neanche delle regole dettagliate, che il consulente tecnico poi nel momento in cui viene in tribunale deve dire la verità. E quindi mi è capitato i consulenti tecnici che non dicessero la verità. E questa è una cosa molto delicata e ve la faremo vedere oggi. Perché? Perché il problema qual è? Che io avvocato mi ritrovo, e mi sono trovata tante volte, con fascicoli già formati, preparati. E mi dovevo difendere. Quando si va a giudizio, perché magari non ci sono stati atti che hanno coinvolto l'avvocato e quindi le indagini sono state fatte tutte in senso univoco, ok? È difficile poi a dibattimento riuscire a spiegare il giudice alcune cose che per noi sono scontate, per voi sono asilari, fondamentali, ma vi assicuro che sono processi in cui io uno sono in corte d'appello e ve lo farò vedere oggi. Ed è qualcosa di difficile, perché in realtà il quesito poi è veramente basilare. Io insegno all'università, ma la cosa sui metadati di Windows in realtà le insegno ai miei studenti perché è una cosa fondamentale sulla gestione dei metadati. Lo insegno perché voglio insegnare ai miei studenti a non mandare documenti di Word con il fatto che hanno scopiazzato il file dallo studio in cui erano precedentemente. Magari io gli dico, guardate, abbiate almeno la cura di eliminare l'autore del documento, ok? In un procedimento penale ho al pubblico ministero, e lì siccome si giocava tutto sui metadati, ho fatto vedere che il file l'aveva scritto il consulente tecnico suo. Quindi in realtà, ed è stata una cosa banale, si è incazzata da morire il pubblico ministero perché mi ha detto che io spiavo all'interno dei documenti. Non ho fatto nulla, però anche lì ho pensato di rischiare la pellaccia perché ho detto questa mi deferisce all'ordine perché questa si è alzata in piedi mentre io gli facevo un esempio subito in conclusione dicendo guarda è anche il suo documento perché per esempio firma Giovanni che è il nome del consulente tecnico di parte, lei è alzata in piedi, ha urlato in aula, lei mi guarda dentro i documenti. Cioè sono passata per Alfa Milf, non avevo fatto un cazzo, ho fatto il tasto destro del mouse però insomma mi sono sentita molto Alfa Milf. E da lì il nome. La beta Milf era offesa, Zeta Milf era offesa, visto che avevamo anche una discreta differenza di età però si è incazzata da morire, io mi sono anche molto spaventata. Quindi in realtà vi dico il problema è questo, adesso lui vi racconta invece dal contrario perché vi dico il consulente tecnico può essere troppo complesso, non spiegare bene, non farsi capire dall'avvocato, noi scottiamo il fatto di essere assolutamente impreparati ed è vero voi siete un pochino cervellotici ed è anche vero, però in realtà i problemi più grossi che abbiamo affrontato in questi anni di lavoro sono stati sicuramente questi, vi abbiamo portato anche un po' di esempi pratici. Ciao, sono Andrea, sono qui con voi per parlare di computer forensics. Ciao Andrea. Questo perché, allora io ho cominciato a occuparmi di computer forensics tanto tempo fa, in realtà faccio finta di essere un giovane ma non lo sono più, per caso, per colpa di un amico, ho trovato la materia particolarmente interessante, stavo parlando del 98, per cui tanto tempo fa quando insomma io ero giovane. Detto questo che cosa c'è di interessante? Che io ho trovato una persona, un pubblico ministero che mi ha fatto un culo come una capanna. devo dire che lui mi dava i quesiti, dopo mi chiamava nel suo ufficio e mi urlava contro perché io rispondevo ai suoi quesiti, dicevo come è possibile? In realtà mi ha dato delle grandi lezioni di vita. La prima grande, ciao Zen, la prima grande lezione di vita che mi ha dato questo procuratore è questa, il consulente è Dio nel suo ambito. E' una cosa che i consulenti non capiscono. Cosa vuol dire? Quesito del pubblico ministero, dica il consulente tecnico se ci sono immagini di tipo pedopornografico. Risposta dopo tutta l'analisi delle cose, eccetera, si ci sono immagini di tipo pedopornografico. Culo come una capanna da parte della persona. Io mi dico perché lei ha una laurea in medicina? Può dirmi se una ragazza giapponese di 15 anni o di 18 lei è in grado di distinguerla? No. E allora lei mi dice che ci sono delle immagini che presumibilmente potrebbero essere di tipo pedopornografico. Perché lei sa tutto sull'informatica, per modo di dire non è vero, ma le altre immagini non sa assolutamente niente. Beh, questa per me è stata una lezione di vita. È stata una lezione di vita perché quando si va sul banco di testimoni o quando si parla con un CT dall'altra parte ha il CT che gioca a farle Sherlock Holmes, che ipotizza, e ne parleremo più avanti, ed è complicato. Io poi mi occupo di informatica forense, ma prima ho fatto il birbante, come abbiamo fatto tanti nell'adolescenza, no? No, non l'abbiamo fatto nessuno, vabbè, quello è un altro discorso. Questo passato. Questo passato. Per cui che cosa vuol dire sostanzialmente? che tu hai una forma mente sbasato sull'hacking, dici, ah, c'è questa cosa da fare, ci giro intorno e la faccio in maniera diversa. Ma questa gestione creativa dell'evidenza informatica non funziona, perché poi arriva lei e invece del procuratore è lei che mi fa un culo così stavolta, perché devi seguire un certo modo di gestire le prove e tutto il resto. Il problema poi è che sono veramente, cioè, qua in mezzo è come se ci fossero spartiacque, e io ho la fortuna di avere a che fare con una persona che capisce la differenza tra una banana e un computer, cosa che in tribunale non sempre è possibile. Quindi che cosa succede? Succede che io parlo a lei, lei mi capisce abbastanza, lei parla a me e io sento il rumore bianco, perché quando si tratta di codici di procedura penale civile è un disastro, presente The IT Crowd all'inizio, per cui a volte è difficile capirsi tra di noi che siamo sostanzialmente una squadra. Quando poi entra il terzo incomodo, e il terzo incomodo è il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, la parte avversa, che possono essere avvocati, i citi di parte, eccetera, eccetera, allora c'è l'apoteosi dell'imbicillagine. Oggi noi vi porteremo alcuni casi interessanti che commentare a lei, e poi è un caso che abbia fatto assieme, che è quello che ci ha fatto incontrare, perché questo è un caso emblematico, non perché sia importante, no, non perché sia un caso interessante, per niente, ma perché è l'abecedario delle puttanate che si riescono a fare in aula e trascinando un caso assolutamente stupido per sei anni di fila, solo per cocciutaggine e perché non si sono fatte le indagini in un'intera maniera. Quindi vedremo come, avendo a che fare con altre persone, dovendosi rapportare, non conta solo la tecnica, non conta solo il diritto, a volte conta anche essere seduto sul banco di testimoni e cercare di far capire alla gente che hai davanti quello che tu hai in testa, che non è sempre facile. Vi faccio un esempio stupido, poi andiamo avanti. Uno dei primi casi che mi capita, insomma, un certo numero di persone stava affroddando la comunità europea per ottenere una serie di fondi. A un certo punto io ho trovato un file, che conteneva esattamente tutto il giro del fumo strano che c'era stato all'interno di questa cosa e come loro avevano pianificato di spartirsi i proventi della comunità europea tra i membri della famiglia. Per cui c'è proprio pistola fumante, no? Il risultato, consigliamo questo file proprio all'ultimo secondo, la difesa si prende un mese di tempo per esaminare questo file, torno sul banco di testimoni, ovviamente da buon nerd mi sono detto ecco adesso mi diranno che l'eccezione è perché io ho calcolato l'escio solo con un MD5 che ha tutte le seghe matematiche che tu puoi immaginare, no? e la difesa mi dà una fattura. Io guardo il giudice e gli faccio, scusi, non capisco. E mi fa, questa fattura dice che il computer che lei ha comprato, cioè che ha esaminato, è stato comprato due mesi dopo i fatti. Come cambia la sua perizia? Io guardo la mia perizia, tra il resto vedo che in fattura c'è un hard disk da 300 megabyte, è stato un po' di tempo fa, e in realtà io ne avevo esaminato l'hard disk del computer da 50 megabyte, per cui cos'era successo? Che quando hanno cambiato il computer hanno sfilato il disco dal vecchio e l'hanno infilato in quello nuovo, no? E a me sembra stupido, però fanno capire una persona davanti a una cosa del genere. Sai, avete presente quei momenti in cui vi arriva l'illuminazione tipo San Paolo sulla via di Damasco, no? E gli faccio, signor giudice, spero di farmi capire, se lei cambia lo stereo, butta i cd vecchi? No, qui è stato uguale. Cioè hanno comprato un computer, ci hanno messo dentro l'hard disk di quello vecchio, i dati per qui. Il fatto che sia stato comprato non cambia assolutamente niente. Tutti che mi guardano con due occhi così. E questo vi fa capire il livello di piattume che c'è generalmente sotto questa cosa. Ma mica tanto, sto parlando del 2010, eh? Cioè non stiamo parlando del 2008-2010, non è che stiamo parlando di cose folli. Adesso, come? Sì, cioè, ma per noi, noi diamo per scontato una marea di concetti, ma in realtà, come diceva giustamente la regola diretta, sì ma se non l'avete conosciuta, ci sarà nella prossima edizione sicuramente dei libri di Block, è, non siamo geni noi, sono stupidi loro. Allora, questo è per raccontarvi un attimo che cosa troviamo noi avvocati. Questo è un caso in cui io ho difeso un ragazzo per un reato un po' particolare, che è il grooming. Ne avete mai sentito parlare? Cioè, il grooming è questa fattispecie di reato nuova, molto particolare, perché è chattare o avere contatti, però c'è la Convenzione Lanzarote sulla tutela dei minori, in realtà avere un rapporto amicale tale da spingere il minore a essere, diciamo, a fare delle confidenze, a instaurare questo rapporto amicale, proprio il grooming a lasciare il pelo, no? Quindi è una fattispecie penale molto criticata da noi penalisti, perché in realtà è quasi un'anticipazione di qualsiasi tipo di reato, quindi in realtà c'era questa chat, ho questa minorenne che dichiarava di avere 15 anni, ne aveva 13, va molto di modo di dichiarare l'età, vedo che è la più alta di quella che sia, comunque una minore di anni 16, che aveva iniziato a chattare con questi due ragazzi. Io difendevo uno dei due e poi c'era quest'altro. In queste chat si presume poi, e adesso vi dirò perché, perché poi siamo arrivati a dibattimento, in realtà fanno una perquisizione, quindi fanno una perquisizione anche al mio, e nel computer del mio trovano del materiale pedopornografico. in realtà, poi ho dovuto fare una consulenza tecnica, perché in realtà, sapete, c'era il video Forza Chiara, che avevano praticamente, poi anche il mio consulente ha detto, il 90% del computer, sapete quei video, era un caso non recentissimo, ora ha 40 anni Chiara, si è la mia età, è un'alfa milf, era presumibilmente, sì poi c'è il problema, adesso non mi addentro sulla tipologia di reati. La cosa interessante è che il mio chatta con questa ragazza, in realtà le dice se è carina, se è molto carina, si scambiano delle foto, non c'è uno scambio più di tanto, nel sequestro che viene fatto al mio, li sequestrano gli hard disk, quindi in realtà neanche copia forense, arrivano lì, li portano via tutto, li portano via il telefonino. Il telefonino del mio era un modello successivo, quindi riescono a recuperare pochissimo di questa chat, tra l'altro dalla copia del computer, quindi all'interno del telefonino non c'era nulla. Qual è il problema? Che poi mi sono trovata a dibattimento, ovviamente poi ci si scontra sempre col fatto di che cosa vuole fare il tuo indagato, e quindi che cosa vuole anche fare a livello processuale, perché a livello processuale si possono fare delle scelte, si può fare un giudizio che si chiama giudizio abbreviato, cioè tu puoi decidere di discutere il processo sulla base degli atti, oppure puoi decidere di fare un processo, quindi sapete che il processo penale si fa nel contraddittorio tra le parti, c'è il pubblico ministero, il consulente, ci si sente le varie parti, si fa tutto a dibattimento del processo penale orale, quindi in realtà si sente il consulente, poi si possono fare delle relazioni scritte, però generalmente è tutto lì. Il mio cliente purtroppo aveva deciso nettamente, era una persona sconvolta da questa indagine, soprattutto perché i capi di imputazione erano molto forti, quindi la detenzione materale pedopornografico, che poi in realtà vi farò vedere è stato assolto, perché ci sono anche, e qui c'è la differenza, tra un consulente tecnico, e quindi il consulente del pubblico ministero, in quel caso era la polizia, sapete che si può nominare un consulente, oppure gli ausiliari di PG possono essere in parte, i consulenti tecnici, poi non mi voglio addentrare, ritrovano tre hard disk diversi, e trovano gli stessi file sui tre hard disk, perché? Perché erano ovviamente, alcuni erano utilizzati come copie di backup, c'è sempre un problema grosso sulla copia di backup, io non riesco a capire, forse perché ho scoperto che il 90% dei miei colleghi non fa il backup, non sa neanche che cos'è, e pubblici ministeri pure non sanno che cos'è, quindi io non so se... Sì, il backup è un concetto in cui ti guardano sempre un po' male, anche i miei colleghi quando mi dicono cosa faccio per il GDPR è un backup? No, allora inizia, parti da quello, io li dico sempre. Esatto, il backup è quella cosa che dovevi fare ieri, ma questo non ho mai risaputo. Quindi che cosa succede? Se trovano questo materiale pedofonografico, fanno una consulenza tecnica ridicendo, ho trovato dieci file qui, dieci file qui, dieci file qui, quindi sono trenta file. Quindi questa fa la consulenza tecnica, tra l'altro col timestamp, quindi in realtà erano proprio identici con l'orario in cui venivano scritti nei file system, quindi in realtà qui erano una coppia del 14 luglio, lì il 16 luglio, però lo vedrete in un altro caso, sta cosa del backup non viene compresa bene. E quindi in realtà viene rinviato a giudizio. Quindi che cosa facciamo? Attraverso una consulenza tecnica, questa è l'imputazione, e vedete che c'è sia il grooming, sia la detenzione, consapevolmente deteneva su due hard disk, dieci file video, quindi gli avevano tolto uno, perché uno eravamo riusciti poi con una memoria, però ne tiene due. Quindi su questo, e poi c'è questo reato del grooming, che è queste, carpendono la fiducia del minore, questa c'è su WhatsApp. Cos'è stata la cosa carina? Che nel mio, nel mio, questa chat, non ce n'era traccia. Cosa è successo? Era successo che la ragazzina era andata insieme al padre a fare la denuncia in polizia giudiziaria. Quindi il telefonino, la ragazzina, ce l'aveva. Cosa è successo? Il padre ha consegnato una copia cartacea, proprio TXT, quindi con un export in testo, della chat di WhatsApp. Nessuno, nessuno ha mai pensato di cristallizzare acquisiti. Nulla di quella prova. Tanto è vero che la ragazzina aveva cancellato l'altro imputato, non il mio, aveva mandato una foto sua nudo, che ovviamente non era più presente sul dispositivo. Ma nella chat non c'era nemmeno. E infatti, anche poi nella sentenza, qui non lo vedete però, il denunciante sintetizzava gli argomenti rintracciati sullo smartphone e lì scaricava su carta. Questa è, esatto. E questa è la sentenza. Lì scaricava... E lì scaricava su carta. E quando siamo andati a sentenza è stato esattamente così. Ok? Quindi in realtà, addirittura su questa foto dell'altro imputato che non c'era il giudice, vi ci ho detto nell'articolo necessario avuto riguardo al capo 2 contestato acquisire visivamente l'immagine d'organo sessuale, cioè questa foto, perché doveva ovviare, essendo sufficientemente rappresentativa e intinziante quanto detto spontaneamente dalla ragazza in sede di sommare informazioni testimoniali. Esatto. Invece, la tesi difensiva che era la mia, grazie a Dio, è stata accosta sull'altra parte. Ok? Cioè sul fatto della detenzione di materiale fedopornografico, almeno sull'analisi 1. Ci sono dei criteri anche lì. A livello informatico troviamo dei file, ci sono dieci file fedopornografici. Ok? È sufficiente questo per dire c'è detenzione di materiale fedopornografico? Lui aveva milioni di file, milioni di file. Quindi c'è già una giurisprudenza di file anche pornografici normali di video. Scusa, mi ha ragione. Lui ne aveva tantissimi, li scaricava di video pornografici e non, beh non so se avete mai scaricato però nella bella e la besta il 90% sono contenuti pornografici, esatto. Poi c'è tutto il problema dei temporanei anche lì, processo stasi c'è stata una sentenza sapete no? Sui temporanei delle immagini quindi in realtà insomma su quello c'è da discutere però anche lì io sono dovuta arrivare a dibattimento sul fatto che ci fossero stati cioè l'analisi dei file un consulente tecnico ha trovato un dato chiamiamolo così ponderale dieci file ci sono c'è il reato finito vai a processo ma in realtà poi c'è stata un'analisi che fortunatamente è stata fatta e su cui ho dovuto fare una consulenza tecnica per dire ragazzi ok va dieci file su quanti e su quelli quali possono essere scaricati online quali sono veramente con delle fattezze o no quindi in realtà il problema è che alcuni di questi procedimenti non dovrebbero a mio avviso neanche iniziare perché era qualcosa che io qui ho fatto l'abbreviato come vi dicevo prima quindi in realtà ho fatto semplicemente una consulenza tecnica e ho discusso io come avvocato e sono andata a far credere un giudice che comunque ha concepito prego dimmi certo allora il problema è che no no certo il problema è che allora lì tu devi vedere degli altri criteri noi abbiamo visto se li aveva aperti se non li aveva aperti vai a vedere anche la copia di backup che tu fai quindi vai a vedere quei file sono stati scaricati apposta o possono essere lì per caso in realtà erano file che non erano mai neanche stati aperti quindi in realtà abbiamo fatto un'analisi in realtà effettivamente no 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 esattamente esattamente tu infatti vedi mi pare che l'avessero riconosciuto l'intenzionalità e dunque il dolo da parte dell'utente circa la loro acquisizione e detenzione il materiale che si possa definire pedopornografico di sei file quindi già il giudice riconosce sulla base di consulenza che erano sei non dieci e poi vedi che ti dice rappresenta una mole esigua rispetto alla mole di documenti di altra natura e 518 filmati di altri generi presenti sui supporti e poi questa è la cosa per cui ho sostituto io sulle copie che si tratti di copie copie effettuate automaticamente durante una procedura di backup ossia e qua finalmente cioè perché ho trovato comunque anche facendo una discussione con un consulente tecnico chiaro che veramente in poche linee di consulenza è andata a battere su questa cosa definito poi qual era la differenza quindi in realtà il problema è c'è un dato ponderale a livello informatico può essere rilevante ci sono tutta una serie di altre cose considerazioni a livello giuridico che devono essere tenute in considerazione e questa è la delicatezza anche della procedura da computer forensico un po' perché questa è giurisprudenza che ormai è risaputa quindi in realtà devi anche concepire non solo il dato informatico ma se anche quello va a finalizzarsi poi nella tipologia di reato che tu stai procedendo quindi quella è la delicatezza no? se in realtà ti vai a fermare su una determinata cosa tu non puoi capire poi successivamente se c'è o meno il reato con Andrea c'è capitato l'anno scorso di fare un procedimento non so se l'hai messo comunque un procedimento per concorrenza sleale ok? concorrenza sleale quindi voi sapete dipendenti adesso ultimamente si fa sempre quindi dipendenti in funzione apicale che sono all'interno di un'azienda vanno via dall'azienda l'azienda che cosa fa? può procedere in due modi in un giudizio civile generalmente fa un procedimento sommario civile immediato e va a acquisire i computer dei dipendenti e qui c'è tutto il problema sulle polisi insomma anche cose abbastanza interessanti va a prendere i computer per capire se il dipendente ha sottratto dei file dall'azienda e l'ultimo giorno è sempre è un hard disk in tasca o sei contento di vedermi? esattamente quindi in realtà fanno degli accertamenti e il consulente tecnico ti dice sì o meno allora noi abbiamo avuto questo consulente tecnico ne difendevamo 4 io ne difendevo 4 di questi ex dirigenti su 5 tra l'altro la cosa bella è che è stata a tutti hanno fatto un cambio computer prima che si dimettessero quindi in realtà hanno fatto copie forense l'abbiamo scoperto dopo senza polis senza autorizzazione quindi insomma ne hanno fatte più di una a uno dei miei ne hanno addirittura cambiato il pc due volte quindi in realtà copiato e controcambiato in queste operazioni ovviamente hanno lo stesso IT dell'azienda ripristinato il contenuto del computer quindi fatto copie di backup svuotato cestino ripulito ovviamente fatto più di un'operazione il consulente tecnico del pubblico ministero anzi della parte civile in realtà che ha fatto la denuncia a querela cristallizzando le prove in uno dei miei ha detto che c'era stata un'operazione massiva di cancellazione di dati aziendali che cosa aveva fatto dire tu aveva fatto due cose bruttissime aveva svuotato il cestino e aveva cancellato la cache di Mozilla prove allora questo vi fa capire anche per rispondere alla tua domanda di prima è che a volte della detenzione è un concetto strano da far capire a qualcuno perché se io ho un file sull'hard disk non è detto che quella sia detenzione sto scaricando so che sto tornando indietro all'archeologia sto scaricando con Emulo con BitTorrent ok in realtà magari ho un pezzo di un file o un chunk o altra cosa quello è detenzione parliamone ok mi fa morire una volta e mi chiamo un mio collega che si occupa anche lui di informatica forense e mi fa senti ma come faccio a trovare delle indagini e delle immagini pedopornografiche dentro il file di swap a me è venuto male dico ma morca miseria sei messo proprio male e dico fai un carving del file di swap a volte ci trovi dentro dei jpeg completi ma come mai mi chiedi questa cosa perché cioè non puoi provare la detenzione perché chissà da dove arriva e la paginazione di memoria magari del browser perché ti si è aperto un pop up sotto e non si sa eccetera no mi fa no perché io voglio fare no ma in realtà dice non è un problema perché sul desktop questa persona aveva una cartella con dentro file chiamata file pedo con dentro 14.000 file pedoporn dico scusa allora cosa che ti frega del file di swap ma così per completezza ma sei un malato di mente ok sei un malato di mente allora è chiaro se ha una cartella file pedo sul desktop con dentro 14.000 file si è detenzione e si è anche massiva se c'è gente che tira giù porno da internet a nastro perché non lo fa nessuno ok magari senza neanche guardarlo ma giusto per avere 100.000 file magari ti scappano come dici i 10 però non è sono andato 20 volte in banca una volta ho fatto una rapina ci ho buttato dentro una quantità di schifo e magari non li ho neanche guardati ok in questo processo vi dico una cosa io e poi ve ne parla compiutamente Andrea perché qui abbiamo visto il peggio qualcuno può dire qualcosa proprio perché questa vicenda è la consulenza allora vi dico a questo punto come ci sono gli ostacoli del processo penale e come si saltano a piedi uniti ok questo è un caso di cui poi parleremo dopo in cui abbiamo visto un po' di tutto difese delle particili del provider abbiamo visto veramente tante tante cose che mi hanno fatto venire una cirrosi molto non era stata dovuta dall'alcol semplicemente tre soggetti li chiamiamo A, B e C si scambiano degli sms al mio che è A sequestrano il cellulare fanno una coppia fisica fanno una coppia del telefonino era ancora un iphone 4 prendono gli sms e negli sms lui si scambia sms con queste altre due coimputate che sono la signora B e la signora C esatto dagli sms risulta risulterebbe in realtà che rispetto alle imputazioni originarie perché poi in questo processo mi hanno cambiato le imputazioni quattro volte mi hanno anche fatto due 415 bis cioè due avvisi conclusione indagini hanno cercato in tutti i modi di cambiare le carte in tavola cosa succede? dagli sms che acquisiscono al sequestro del mio cliente hanno sequestrato qualsiasi cosa di informatico lui si occupa di sicurezza informatica quindi aveva fotocamere digitali chiavette usb tablet quattro computer hanno fatto un sequestro tra l'altro il sequestro migliore è stato sequestro propedeutico confisca cioè il corpo di reato era un computer acquistato quattro mesi dopo i fatti quindi in realtà un computer che non c'entrava assolutamente nulla e su cui si è dibattuta tutta l'analisi processuale periziato e tenuto per poi confiscarlo ovviamente poi dopo la sentenza di assoluzione sono andata a riprendermi non era da buttare perché era un iMac di 5 anni fa però in realtà sequestro come corpo di reato i fatti del luglio del 2011 il computer acquistato a dicembre 2011 ho prodotto anche la fattura quindi in realtà fanta metadati fantalog cosa succede? dal telefonino si avverte chiaramente che le altre due persone a seconda di quella che era l'ipotesi accusatoria sanno di queste foto perché in realtà erano delle foto scattate nella vela di George Clooney insomma di evidenza e si sanno se le sono viste hanno visto queste foto tutte le altre quindi le altre due al momento del sequestro del telefonino sono indagate già default sarebbero persone già formalmente indagate del reato in concorso di reato ma cosa succede? che questa diventata immediatamente dopo indagata viene sentita a sommare informazioni testimoniali qual è la differenza tra l'indagato e il testimone? che l'indagato nel procedimento penale a differenza degli altri procedimenti può non rispondere o mentire quindi se venite da me e poi ve lo faccio vedere anche dopo su altre cose io posso non rispondere sono indagato qual è la password di sblocco del suo iphone? non rispondo sei testimone qual è la password di sblocco del tuo telefonino? devo rispondere questa è una cosa importante ok? dagli sms risultava palesemente indagata che cosa succede? la sento da sommare informazioni testimoniali e che cosa succede? qui poi c'è tutto il la cosa maggiore lei ha una casella gmail come faccio io pubblico ministero ad acquisire una casella gmail? visto che l'89% dei dati risiedono dagli operatori americani faccio una rogatoria internazionale tecnicamente vado da google busso da google chiedo l'account faccio un freezing dei dati prendo la casella che mi serve in quel momento richiamo da google mi faccio rimandare i dati acquisisco i dati no sento la signora sommare informazioni testimoniali le dico mi dai la password della sua casella email prendo la sua password gliela cambio li cambio la password di recovery e congelo la casella di google laserone scusate l'apg davanti al giudice per giustificare questa sanata dice ah signor giudice le faccio capire è come se io vedo sono al confine con la svizzera vedo che c'è un 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 omicidio subito dopo il confine per evitare di inquinare le prove fermo tutte le macchine al valico per evitare che vadano a inquinare le prove e il giudice dice bello a chiasso a chiasso io ho detto no scusi signor giudice è diverso vuol dire che io vedo un omicidio in svizzera fermo tutte le macchine che sono di qua appena gira l'occhio la polizia svizzera trascino il cadavere in Italia e poi faccio quel cazzo che voglio io cioè è ben diverso il concetto ok mi spiace poi che il collega non sia andato in cassazione ma in realtà facendo il riesame il riesame che pure era tutta una cosa complicata sul tipo di sequestro sul tipo di attività il riesame ha detto signori miei avete fatto un'attività di intercettazione non autorizzata perché una casella email in quel momento continuava a essere attiva tra l'altro questa era una giornalista quindi secondo me gravissimo gravissimo ok giornalista non di simpatia rinomata ma una giornalista quindi in realtà il problema è che è stato gravissimo come attività perché quella casella email è stata congelata tra l'altro mesi cioè lei è stata nell'impossibilità di accedere alla sua casella gmail quindi poi hanno fatto il dump del gmail perché poi dopo ovviamente è successo un casino quindi hanno fatto un 360 cioè un'attività è ripetita facciamo il dump delle email ridiamo la casella indietro poi è arrivato l'esame dicendo guardate state facendo intercettazione mi spiace che si è fermato l'esame io sarei andata in cassazione perché secondo me questa cosa era fondamentale avrebbe fatto una pronuncia certo è difficile acquisire le indagini informatiche io lo capisco anche se sono difensore non è che voglio sempre essere a rompipalle da dire no non si fa no non si fa lo so che è complesso fare le indagini è ovvio che siamo con le mani legate perché in realtà i dati qua in Europa anche GDPR parliamo di GDPR ma in realtà qua che cacchio di dati ci sono niente cioè sono tutti lì Facebook tutti i miei colleghi che fanno le querere su Facebook ma che cacchio le fate a fare per diffamazione su Facebook tanto Facebook fa una pernacchia grossa come una casa perché in America la diffamazione non è reato quindi la cooperazione internazionale l'erogatorio non si fanno non esistono non perdete tempo eppure io continuo a fare processi su sti cacchio di gruppo sei di Cinisaro Balsamo sei di Novara sei perché lì si scrivono le peggio cose vado di battito e dico scusate mi avete log no va bene arrivederci e grazie intanto io pago come diceva Totò quindi questo ultimo perché poi non voglio perdere tempo da Andrea questo solo per farvi capire questo è un processo a cui sto andando a Palermo è quello per cui vi dicevo il PM si è arrabbiata tantissimo quando gli ho detto la roba dei metadati perché qui è stata una cosa di una violenza e non è narrabile da parte del consulente tecnico del pubblico ministero io sono arrivata in una fase successiva sono arrivata già a dibattimento quindi non ho potuto fare molto se non dopo rinvio a giudizio prendere copie dei computer e scoprire delle cose il reato in per sé è semplice un falso ok quindi niente a livello informatico un falso si presumeva che questo documento firmato 3 luglio 2008 fosse stato creato in una data successiva cioè il 31 secondo l'accusa è il 31 luglio 2008 come ha fatto l'accusa a dirmi il 31 luglio 2008 perché c'era il formato stampato sono andata a risalire sul file di word che aveva generato quel file che io chiamerò avvocato.indovina perché si chiamava proprio con il nome della mia cliente che è un avvocato av.indovina abbiamo trovato il consulente tecnico mi diceva ho trovato av.indovina sul computer ho cliccato tasto destro data di creazione 31 luglio 2008 il file è stato creato il 31 luglio 2008 questo diceva la consulenza tecnica del pubblico ministero attenzione signori perché il pubblico ministero nella sua consulenza tecnica del pubblico questa è la sua e questa è la mia con delle immagini semplici che fanno capire il consulente tecnico non mi dice mai che in realtà il computer sequestrato alla mia non era il computer originale erano i file all'interno delle copie di backup ma non solo erano stati acquisiti anche altri due hard disk nemmeno dei due era il computer originale quindi in assenza di fare non ve lo sto spiegando io sto te lo spiegando ai miei colleghi quindi in realtà posso non dirvi nulla su questa cosa qua ok tasto destro non vuol dire un cazzo la mia frase fin dall'inizio che non potevo dire perché sono una signora ma è tasto destro poi neanche analisi dei metadati tasto destro questo è l'esimio consulente del CNR della procura di Palermo ma non solo per non dirmi e non far capire al tribunale qui io sono in corte da 15-12-13 per ancora spiegare una cacata perché per non dire lui guardate che non c'è il computer originale guardate come il consulente del CNR può essere figo nel non far capire trattati allora dice il reperto di cui appunto A risulta sequestrato il 2 febrile 2011 presso la direzione generale i reperti di cui appunto B e C che sono i due hard disk risultano sequestrati il medesimo giorno trattasi di due hard disk che in passato erano installati in computer utilizzati dallo stesso personale che è in uso del computer anche perché c'erano gli utenti di Windows non ha fatto neanche gli utenti di Windows mi dice che c'era Windows installato sulle macchine neanche la versione cioè una roba da spararsi che è in uso del computer il cui appunto ha e che sono stati sono stati in uso del computer senza tecnica nel novembre 2010 questo 2 febrile 2011 e nel gennaio 2011 qui lui doveva dirmi guardi giudice mi spiace non ho il file sistema originale non le posso tenere c'è presumibilmente una data di creazione del file che è il 31 luglio del 2011 scusatemi il 31 luglio del 2008 io ho semplicemente dovuto fare visivamente ma non è servito questa spiegando il file sistema originale di un computer che cos'era che come creava i metadati di Word il fatto che i metadati all'interno di un file di Word sono modificabili che le operazioni di salva con nome ti scambiano il metadato che salva come save as a new document quindi lo puoi spostare anche da una partizione all'altra dei file system e creare un nuovo documento ho inviato loro la mia scena di laurea del 2002 scritta in Word 2003 per mandarlo e fargli capire che se lo salvavano sul desktop veniva il metadato 2010 ho fatto di tutto stavano i pazzetti e la ricetta di nonna Pina e ho fatto di tutto ma non è servito cioè è servito è stata assolta ma con un giudice tribunale una sentenza che farà brividire quindi in realtà non hanno scritto nulla lui va a fare questa creazione per non spiegare che non c'è il file system quindi senza dire mai che non c'è il computer originale scrive questo e mi dice guarda addirittura il file e spiegare al giudice che il file era creato il 14 luglio perché questa è la creazione del file system e questa era la modifica sul file di Word ci è voluto un dibattimento di 11 udienze di cui 6 informatiche perché sto casino risolverlo non è facile perché tu insinui il dubbio senza spiegare che cosa succede a livello informatico quindi è stato veramente incasinato veramente incasinato tant'è vero che lui dice il file ha subito l'ultima modifica il 31 luglio 2008 lui dice sempre facendo tasto destro del file questa è la consulenza tecnica cioè questo mi sollevate sono contenta che ridete perché quando lo spiegano gli avvocati non ride nessuno sì vabbè vi dico anche il nome dell'indagato non dormiamo un appello non c'è problema allora aspetta però perché qua la parte più buona la sono dimenticata comunque diceva il file è scritto in Windows e io dico ma che versione perché poi ho analizzato ovviamente vai a fare tutto sto lavoro vai a analizzare col metadata analyzer con che tipo di word era stato scritto e quindi fai spiegare che non era la macchina originaria perché uno in XP uno in 2007 uno in Microsoft Server figurati e poi le revisioni che c'erano quattro revisioni e poi la cosa bella è che c'era un file che si chiamava av.indovina1.doc quindi molto probabilmente ed era identico all'altro quindi io ho cercato di spiegare anche che molto probabilmente il file vecchio era stato riutilizzato e cambiato il nome per crearne uno il 31 luglio nuovo identico ma lì ci siamo spinti ragazzi delle cose tremende ripeto assoluzione ma tirata per i capelli e cinque anni di processo e io ho fatto tanti 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 capelli bianchi l'ultima cosa solo poi finisco ci sarebbe da dire di tutto tribunale di minorenni a settembre mi chiamano la domenica mi dicono avvocato ma è arrivato il verbale di sequestro del telefonino dico ma quale telefonino ma no sono venuti ieri carabinieri hanno detto dobbiamo fare una perquisizione ci apriteci date il telefono spontaneamente o vi mettiamo a soccuadro la casa gli abbiamo dato il telefonino dico va bene ok era già indagato il mio cosa se ne fanno del telefonino lo sequestrano e poi guardo in fondo fatti dare semplicemente dal mio senza avvisare l'avvocato e gli avrei detto non rispondere il codice di sblocco e il PIN della SIM perché così si può fare in realtà non si dovrebbe fare cioè io posso rifiutarmi ripeto e lo ribadisco di rivelare la mia SIM hai messo il nome del cliente basta quindi abbiamo svelato quello del processo allora il processo di prima è bellissimo perché come vi dico avete mai letto il libro Lo stupidiero della maturità è uguale tutto in un processo solo è bellissimo caso banale come vi dicevo mi sa che sta morendo la batteria tipo una cosa del genere caso banale vengono fatte queste foto all'interno di questa villa non si è mai visto queste foto che cosa non fanno vengono fatte da una da una persona e vediamo un attimo antefatto esatto cosa succede? vengono fatte delle foto le foto vengono condivise da una di queste persone tramite l'account iCloud della moglie spendendo un link ovviamente con la password in chiaro a un certo numero di persone ok? si si mettetevi le mani nei capelli queste foto se ne escono e qualcuno tenta di venderle a un giornale scandalistico lì ho capito che io non ho capito un tubo della vita perché vendere queste foto per 120.000 euro ho detto sono un pirla a occuparmi di informatica e non a fare foto con i droni comunque vabbè andiamo avanti quindi che cosa succede? da qui parte lo show si monta un processo di anni sei anni per queste minchia di foto scusate l'espressione tecnica ok? e si parte dalla richiesta del pubblico ministero siete seduti? il quesito del pubblico ministero pronti? bene allora l'indagato è lui oggi è indagato processo abusivo perché accedendo abusivamente all'account questo che è un account iCloud con l'account Gmail allora ditemi voi se riuscite a capire come si possa accedere ad iCloud con una mail di Gmail perché io sono entrato in loop lei mi ha dato una sberla poi dietro perché ero probabilmente andato e questa è la base c'è tutte le perizie si basano su questa cosa qua e tu devi dire ma cosa vorrà dire? beh in realtà c'era tutto adesso ve lo spiego perché poi il nostro il nostro cliente ha spiegato che cosa succedeva praticamente che cosa è accaduto il nostro cliente dice io in quel periodo mi stavo occupando parecchio di gossip ed era un periodo in cui era il periodo d'oro di 4chan ve lo ricarrate 4chan? quindi io ero lì che mi facevo bellamente i cacchi miei a tirare fuori roba da 4chan e mi capita davanti questa benedetta cosa ok si faccio velocissimo cosa succede? tante persone usano le caselle di Gmail come repository per cui cosa fanno? pubblicano queste caselle di Gmail su 4chan con username e password tu entri e vedi tutta una serie di cose interessanti la password è pubblicata lì per cui cosa ho fatto? io ho preso username e password me li sono copiati e me li sono messi su una nota di Evernote quindi a tutti gli effetti queste foto erano disponibili pubblicamente giusto? perfetto risultato lui invece ha creato l'account e l'ha usato che cosa? questo account di Gmail che era quello in cui lui ha trovato le foto sì lo so è strano cioè non no allora prendete il buon senso mettetevelo in tasca prendete la logica buttatela via e cercate di seguire il filone perché è difficile se no cioè non provate a metterci del buon senso allora l'altra cosa ovviamente nessuno di noi ha mai hackerato un sistema informatico quindi ipotizziamo ipotizziamo se voi ha hackerato un sistema informatico la prima cosa che fate per non finire nei casini che cos'è? bravo cancelli il file di log giusto? hai sentito dire ovviamente allora che cosa succede? è chiaro che se io ho un'accusa di accesso abusivo a un sistema informativo la prima cosa che mi serve è un file di log perché devo sapere da dove vincere arriva questo attacco giusto? perfetto apple dice ma noi non teniamo nessun file di log di iCloud allora la domanda è scusa ma come fai a ciò a provarti che questo è colpevole o che questo non è colpevole non c'è il file di log come fai a sapere che c'è stato un accesso abusivo considerato che non hai un file di log il buon senso ci dice questa indagine doveva essere aperta il PM doveva vedere questa evidente imbecillata che ho fatto un fascicolo archiviare e dire ok signori andiamo avanti no hanno chiesto il di log a Google perché c'è una casella di mail ti ricordi che iCloud è stato hackerato con Gmail e quindi li chiedi a Google se non li ha Apple scusami è logico no strano perché anche a me non pareva allora che cosa succede vi faccio vedere il log di Google perché la cosa interessante del log di Google è questo Google ti dice io ti do il log di questa casella attenzione della casella noi non sappiamo cosa c'è dentro la casella è stata chiusa cinque giorni il fatto è stata aperta riempita e chiusa per cui non sappiamo cosa c'è dentro poteva esserci anche l'ultimo segreto di fatti ma noi non lo sappiamo e Google ci dice io ho degli indirizzi europei attenzione ci sono altri IP che vengono dagli Stati Uniti ma siccome tu mi hai fatto la richiesta dall'Europa e non è nella tua giurisdizione ti dico l'accusa perché è così allora l'accusa mi dice eh no tutte le connessioni a tutte le connessioni avvengono dai IP che abbiamo rintracciato fanno parte degli IP utilizzati dal tuo cliente ma questa frase potrebbe essere no allora andiamo in matematica non è un insieme potrebbe esserci dentro una connessione o 15 miglia che non sappiamo noi giusto? aspetta aspetta no non ti mettere questi casini eh che cacchio oh la X la X è un IP tedesco allora calcolate che il nostro cliente che è andato a vedere questa cacchio di casella aveva un IP statico sempre lui è tranne la persona che chiude la casella che invece riesce da un IP tedesco ci siamo fino qua diciamo il CT dice porco mondo è un IP di Tor perché? sei pronti? adesso quello che vi faccio vedere è uno screenshot tratto dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero non l'ho inventato io questo signore ha preso lo screenshot e l'ha messo in relazione questo signore ha preso lo screenshot messo in relazione chiaro? sito assolutamente autorevole non ciclopedia Torricchione abbiamo bloccato questo indirizzo IP perché appartiene a un bimbo minchia no che devasta non ciclopedia attenzione no aspetta no 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 c'è dell'altro c'è dell'altro perché dici nel servizio è un pompino di scusa da parte di Moana Pozzi e io ho detto nella memoria che mi sembra che una persona che promette favori sessuali di una defunta non sia un test attendibile e il CT dal PM si è pure girato male dicendo che facevo facile ilarità ma è lo stesso è lui ma per fare l'imbonitore venghino venghino signore c'è dell'altro Gimè sequestrata senza rogatoria l'ha detto lei Google ha la preconoscenza ah sì perché c'è stata una cosa fighissima il mio cliente ha trovato questa cosa su 4chan e l'ha copiata su una nota e loro hanno detto non è vero bastardo hai fatto finta perché noi abbiamo la data di creazione dell'account di Gmail e la nota è stata creata sei minuti dopo per cui non puoi aver avuto il tempo di trovarla su 4chan e copiarlo quindi vuol dire che l'account l'hai creato tu e uno Evernote non ti dice quale dispositivo dei tanti ha creato quella nota e non ti dice se la data era giusta lui aveva sei dispositivi sequestrati cinque senza l'NTP uno con l'NTP d'accuso ha detto eh no ha usato quello lì e la data era giusta scritto nei log e quindi non si sa se era giusta o meno e poi il ct del pubblico ministero dice io ho provato ho creato ho cominciato ci vuole due minuti e mezzo per creare la casella di mail più un altro minuto e mezzo per metterla su 4chan quindi lui aveva poco più di 30 secondi per trovarla e copiarla impossibile sì perché Google ha la 100 se stanotte mi viene in mente di creare una cosella di Gmail Google mette la data in cui io ho pensato di crearla esatto e qui la metti la data di inizio del procedimento non nel momento in cui tu premi fine chiudi e viene creato l'account no Google ha la presenza è un precog il dispositivo con cui si effettuano le operazioni è quello scelto dalla seconda di come gli gira meglio sequestiamo un Mac utilizzato un anno dopo i fatti e dici eh ma lui ha cancellato tutta la cronologia di navigazione no Pirla è stato comprato dopo cioè non è difficile e perizziamolo perché comunque è stato comprato dopo ti diamo la fattura ma lo perizzi lo stesso perché così facciamo ipotesi a caso allora perché il mio cliente vi ricordate quello di Thor che abbiamo la testimonianza di Babilos e Torricchione il CT del pubblico ministero dice era il vostro cliente che ha utilizzato Thor per chiuderlo allora uno non si capisce perché il mio cliente abbia sempre utilizzato il suo IP statico e poi ha avuto l'illuminazione di chiudere l'ultima volta via Thor la seconda è cioè per prendere quell'imbecille di Stroad l'FBI ha messo 1500 server Thor all'interno degli Stati Uniti e in più ha messo un javascript per riuscire a trovare l'IP number lui invece dice è stato il tuo cliente a 4 anni di distanza e poi si offende se dico il CT ipotizza però Babilo il settore Chioni ha confermato ok grazie per l'attenzione grazie grazie per l'attenzione